Ehi ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera d'Astra Siamo davvero agli sgoccioli, mancano pochissime cose da fare E una di queste è catturare i geni, i famosi quattro geni Credo siano quattro anche qui I famosissimi geni, chi è che non li conosce? Landorus Tornados, Thundorus e Enamorus Ho preso il veri specchio, non ricordo chi me l'ha dato, forse Aster, l'ha preso da Aster Ma vi lascerò un appunto per dirvi con esattezza dove e come si prende Poi si vola al monte Zodiaco e c'è una fessura dove il veri specchio si incastra perfettamente Eccoci qui, praticamente all'entrata del monte Zodiaco Inseriamo il veri specchio Glitch incredibile e via Si torna qua dentro Allora, io ho fatto una piccolissima prova per capire come entrare e come non entrare Ed è assurdo Qui dovrebbe, qui si dovrebbe entrare Anche perché qui sopra Vediamo un po' dove ci porta Ecco Questi sono quelli comandi invertiti Allora, qui sopra non ci sono venuto prima Sono solo andato dalla parte Dall'uscita sono entrato praticamente prima Quando ho fatto la prova E sinceramente sono arrivato in un punto dove ho trovato due oggetti familiari Ma sinceramente non ci ho capito niente Però come sto messo con gli oggetti? No, la strada giusta è a destra appena entri Quindi niente, dritto per dritto Ok E qua iniziano i cavolacci amari Ok, ok Qua dovrei incontrare il primo in teoria Se facciamo come Sì Ok L'energia terrestre è accesso a un oggetto familiare Anello terrestre Bene E di qua allora Perché ho fatto la strada all'incontrario prima Ho trovato anche Questo qua Anello Xenoverse Perché si possono catturare anche gli altri due starter in questo gioco E quindi conferire loro le stesse abilità che hai conferito Allo tuo starter iniziale Però no Io l'ho preso in un altro luogo Non era questo L'ho preso a un altro piano Perché ci sono più piani Quando entri nel monte zodiaco Dello Xenoverse Interessante Comunque Che affrontiamo? Il vero specchio riflette l'immagine di un essere imprigionato Un essere libero Beh penso Libero Oh Hell no Chi è? Tandorus? No L'Andorus mi sa Va a finire che è Tornadus alla fine Insomma uno dei tre Tandorus La forma vera Livello 100 Abbastanza PS Allora Mi fa un tuono Mi spacca Sono più veloce Nel caso Non si sa Però la mega va prima Vero? Se Poglia Vabbè però Cioè Wow Dammi il tempo di fare qualcosa Amico mio Perché così non andiamo da nessuna parte Per davvero Avanti Mandiamoti a long Cioè Un tuono deve prenderlo Ti è long Immagino Lo prende Ha già lo raggio Ok Ipernova Come fa con giura Mamma mia Qua Eh Allora Ok Ho perso malamente Un essere imprigionato Che fa? Ah Compare la forma Normale Ah Quindi un essere libero Compare la forma Vera E un essere Imprigionato Compare così Va bene Ho capito Allora Visto che sono una sola Per catturare Quello più forte Provo a catturare Quello più debole Nella vana speranza Che sia uguale Allora Io sto ridendo Perché mi ha fatto Tutte le volte Tuono E sta missando Tutte quante le volte E ovviamente Io non riesco a catturarlo Figuriamoci E ora mi ha preso Ora mi ha preso Guarda Dovevo parlare Dovevo parlare Per farvi prendere tuono Però a sto punto A sto punto esci Oh yes Uff Pensavo che sarebbe finito A scontro E invece no Per fortuna Ok Pokémon fulminante Dove passa Tandurus Rimane una scelta lunghissima Di bruciature nere Provocate Dai fulmini che scaglia Manda al pc Per sempre però E quindi Lo specchio si rompe Ci sono un bel po' Di yokai Qui Quello con l'ombrello Sono yokai Ok È un essere imprigionato Non voglio assolutamente Affrontare quello libero Enamorus No Quindi c'è Enamorus Ok Bene Guarda Meglio affrontare La forma imprigionata Che non quella libera Di Enamorus È diecimila volte Meglio così Enamorus Credimi Se è meglio così Allora Potrei fare un Ah no 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 Aspetta aspetta Vado in z Vado in z E faccio il sostituto Così almeno Corpo gelo Ho corpo gelo Con la z Sì 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 Ho corpo gelo Ho corpo gelo Mi ricarica con i punti Con la grandine Mi ricarica Ah però no Enamorus prende un sacco di botte Ci prende dalla grandine Eh cavolo Devo prenderla subito Enamorus O posso farle solo pochissimo male Ah Enamorus Non mi andare K proprio ora Ah no Ok Ha un punto salute Enamorus Punto salute No Niente Ha deciso di no Grande Finalmente Finalmente Meno male Meno male Pensavo non entrasse mai Amore e odio La sua penuta dai cieli Al di là del mare Annuncia la fine Del rigido inverno Si narra che Su amore Faccio germogliare Nuova vita Per me basta Che Valpice Non esce più da lì Può rimanere lì A vita Non mi interessa La odierò per sempre ora No non è vero Ma solo per un po' Qua siamo proprio arrivati Da Coro Sensei Guarda che facce Allure 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 Ok Anello terrestre Ok Questo è secondo E questo qua C'è Un altro Anello Xenoverse Bene Quindi io qua Ero arrivato Durante il mio tentativo Di capire come raggiungere I geni Bene Andiamo Un essere imprigionato Vai sempre con l'essere imprigionato Aha Questo è Tornatus Ha fatto uffi Come il vento Allora Faccio la mega E faccio calmamente Mi farà congiure E mi spascerà comunque A Tornatus Vabbè Guarda Una Velox Ball Di circostanza Non ci speravo Comunque Quindi Oh Grande Veloce lui Veloce Bene 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 Pokemon Turbinio L'energia Sprigionata Dalla coda Di Tornatus Provoca Una violenta Tempesta In grado Di spazzare Via le case Sei cattivello Tu eh Sei davvero Cattivello Manca solo L'ultimo Landorus Il più Cattivo Di tutti Oh Che trovo qui Un altro Anello terrestre Ah perché Se voglio Darlo Certo Certo Il mio starter Base Ovvio Certo 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 Perfetto Allora Siamo qui Per incontrare L'ultimo Dei geni Ma non perché Sia intelligente Ma perché Si chiama genio Perché fa i desideri Questo è l'Andorus L'ultimo Ora Mi informerò Sulle Sulle forme Libere Se cambia qualcosa Ma non penso Surf Lo faccio fuori Vero Eh ti pareva Tre volte Che fa scontro E tre volte Che fa KO Complimenti Landorus Quattro volte Che fa scontro E crepa Di contraccolpo La pace Dei sensi Tutti i sensi Che esistono Anche quelli Che non esistono Pokémon Fertilità Rende fertile La terra Trasformando L'energia del vento E dei fulmini In nutrimento Per il suolo Io ti lascio A PC Ma ti libero Per dispetto E quindi Cioè Non Niente Neanche la ricompensa Così Finale Proprio Per buffo Niente Ti faccio schifo Talmente tanto Che neanche la ricompensa Finale Mi merito Un'ora e tre quarti Per catturare I quattro Cicciobelli Qui Ad ogni modo Amici Per questo video è tutto Vi ringrazio Per averlo seguito In descrizione Trovate tutti quanti I link utili E noi Ci vediamo ovviamente Al prossimo video Bye bye